La sua eccellenza Il conte Volpi di Misurata Consegna le coppe assegnate alla quarta esposizione internazionale d'arte cinematografica di Venezia che ha segnato luminose affermazioni della produzione nazionale La coppa del Duce per il miglior film straniero ha premiato l'imperatore della California e quella per il miglior film italiano, squadrone bianco, produzione Roma Film La coppa Volpi per il miglior attore è stata assegnata a Paul Muni per la vita del dottor Pasteur L'istituto Luce con il cammino degli eroi ha vinto la coppa del partito per il miglior film politico sociale e quella dell'istituto per la cinematografia educativa per il miglior film scientifico